E' stato dichiarato fuori pericolo e salvo complicazioni potrà avviare subito il percorso di guarigione il dipendente della Genesi SRL di Zermeghedo, collegata al gruppo GML D'Arzignano, che ieri nel primo pomeriggio ha riportato lesioni di media gravità dopo una caduta da un'altezza di certo ragguardevole. Si parla di alcune fratture dopo un salto di circa 8-9 metri. La notizia dell'infortunio sul lavoro da registrare nel Vicentino, di cui ieri non faceva menzione il report del SUEM, è riportata oggi in un articolo del giornale di Vicenza. L'operaio, assunto nell'azienda conciaria locale dalla quale è partita la richiesta di soccorsi, avrebbe circa 30 anni di nazionalità straniera. Alle 13.30 si sono precipitate in zona industriale un'ambulanza e i carabinieri e il personale dello Spisal. Pare che il trentenne si trovasse all'interno del capannone di via Valdichiampo al momento della drammatica caduta, ma non ha dato a sapere per ora la dinamica dell'evento. Di sicuro il giovane lavoratore della ditta di Zermeghedo è salvo per miracolo, essendo atterrato su un piano rivestito di merce.